Noi abbiamo un signore che è un ex assessore regionale del Partito Democratico, che sta in Consip, che dice, io ho tolto le microspie perché mi ha detto dall'inchiesta l'attuale ministro Lotti. Poi abbiamo Lotti che dice non è vero. Uno dei due dice il vero e l'altro dice il falso. Però il signore che sta in Consip, Marroni, è messo lì dal governo. Allora, secondo migliore, la tutela maggiore in questo momento è il diritto di Lotti, come tutti, di essere innocente fino al terzo grado di giudizio o è il dovere da parte di chi amministra la cosa pubblica di evitare che da una parte possa esserci alla testa della Consip, la più grande stazione appaltante italiana, un calunniatore, se è calunniato, oppure viceversa che ci sia alla testa di un ministero uno che fa lo spione e che inquina le inchieste. Io mi chiedo, non sarebbe più prudente, più giusto farli fuori tutte e due e poi quando saranno assolte e chiarite le cose farli tornare? Non siete lì per tutelare il bene di noi cittadini? Gennaro Migliore, mi sembra una domanda molto sensata anche perché sono due persone che sono rimaste loro posti e che sono entrambi dentro una vicenda molto complicata. Il raggiunto della Procura del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, ovviamente ha già stilato tutta la sua sequenza di deduzioni. Io sono abituato, anche per il ruolo che svolgo, ad avere il massimo rispetto per quanto riguarda gli atti della magistratura e soprattutto penso che sia da rilevare come molto importante il fatto che ci sia un provvedimento, anche molto inusuale, che è stato preso dalla Procura di Roma, di sospendere per fuga di notizie legata anche ad aspetti che magari non erano neanche conosciuti ancora dalla Procura il nucleo operativo ecologico di Napoli per quanto riguarda l'inchiesta. Quindi dal mio punto di vista il fatto che ci debba essere l'accertamento della verità è indiscutibilmente la priorità. E il fatto che ci possa essere una azione che in questo momento venga strumentalizzata a fini politici a me sembra evidente. Ovviamente io penso che il fatto, gli altri giornali stanno facendo il loro mestiere, e quindi io non faccio una contestazione agli atti che vengono prodotti all'interno di queste inchieste giornalistiche. Però noi, proprio perché abbiamo l'esigenza di tutelare l'interesse dei cittadini, abbiamo l'interesse che una iscrizione nel registro degli indagati o un avviso di garanzia che riguardi i raggi, che riguardi piuttosto altri esponenti politici, compresi quelli che sono nel nostro partito come il Ministro Lotti, non comporti un giudizio che possa essere tratto da una valutazione sui giornali. Io non sono d'accordo sul fatto che si possa dire che in questo momento il Governo non sta tutelando l'interesse dei cittadini. Io sono dell'idea che ci debba essere una linearità nei comportamenti e la linearità dei comportamenti di questo Governo è certamente sottrarsi alla polemica politica che in questo momento a tre mesi di distanza ripropone la stessa notizia senza nessun aggiornamento solo con la richiesta in più di dimissioni oppure di mozione di sfiducia dei Cinque Stelle. Io vorrei fare una notazione al volo poi per il vostro dibattito. Io noto che esistono due Italie, c'è la Procura di Roma che di fronte alla fuga di notizie verso i giornali e verso gli indagati non esita a far fuori il noe non sapendo se sono loro gli autori della fuga di notizie ma immaginando che le notizie sono transitate di lì e quindi li esautora per un principio di precauzione rispetto al bene pubblico e invece c'è un'altra Italia che non decide, che parla valvera di principio di innocenza non guarda i fatti e è suddita di interessi esclusivamente politici. Cioè quest'Italia a mio parere è rappresentata da Gennaro Migliore e dal governo.